Lo aspettavate e ci risiamo. Questo è l'appuntamento più amato dagli italiani su YouTube. Non è vero, probabilmente no, però è un appuntamento che piace a parecchi di voi. Qual è? Quello dove vi segnalo 5 app di intelligenza artificiale che sono in offerta su AppSumo e quindi che vi conviene prendere subito. Questa rubrica è una rubrica mensile, un appuntamento mensile, quindi vediamo questo mese quali 5 app ho selezionato per voi, cose interessanti che potete utilizzare nel vostro lavoro, ma anche no, anche fuori dalla vita lavorativa. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo che se vi piace la roba che vi porto qui sopra potete supportare questo canale in due modi. O premete il pulsantino grazie qui sotto e io vi ringrazio quando voi mi ringraziate facendo una piccola donazione, oppure potete fare un abbonamento che è una donazione che si fa in automatico ogni mese. Mi offrete un caffè per dire, Raffaele, ma quanta bella roba ci porti qua sopra? Veniamo a noi. Allora, il primo tool di cui vi voglio parlare oggi si chiama Pixo, scritto con la X, e potremmo dire che è uno strumento un po' in stile Canva, in stile Canva ma anche in stile Miro, forse più Miro che Canva, perché è una lavagna virtuale a tutti gli effetti nella quale si può lavorare anche in gruppo. Se utilizzate le lavagne virtuali, io sono un mega fan delle lavagne virtuali, sapete che sono utili per fare progettazione, per fare brainstorming, per discutere di progetti e che più ne metto. Questa è un pochino l'interfaccia di come è fatto Pixo, c'ha collaborazione real-time che è una cosa fondamentale, quindi se avete un team, se avete dei dipendenti, dei collaboratori o anche se fate progetti con i vostri clienti, utile per fare prototyping, veramente ci potete fare tantissima roba qui sopra. In questo momento Pixo è in offerta su AppSumo e lo potete prendere a 59 dollari invece di 7,92. Nel caso in cui è la prima volta che vedete uno di questi video e dite, Raffaele ma che cazzo significa 59 invece di 7,92, è uno sconto fuori testa? Sì, perché su AppSumo mettono per un periodo molto breve delle app in offerte in lifetime deal, che tecnicamente significa invece di pagare un abbonamento ogni mese per Pixo, lo pagate una sola volta. Ecco questo 7,92 come è calcolato, è l'abbonamento che voi avreste fatto, magari non mi ricordo se è calcolato su due anni o di più. Quindi questi 59 euro invece li pagate una sola, 59 dollari, li pagate una sola volta invece dell'abbonamento. È una cosa comodissima perché risparmiate un sacco di soldi, no? Io quando faccio questi video dico sempre che alla fine se vi pigliate due o tre di queste app che vi segnale, alla fine dell'anno avete risparmiato qualche migliaia di euro, quindi non è poco. Ecco cosa significa quindi questa cifra, ok? Ricordatevi, questa cosa è importante perché state prendendo un'app, tutte queste app che sono in offerta a lifetime deal. E durano poco queste offerte, a volte qualche settimana, a volte diciamo un mesetto, quindi quando esce il video pigliatevele subito, se no mi scrivete Raff, ma il link dello strumento numero 3 non è più attivo, non funziona, è perché è scaduta l'offerta, ti devi muovere. Ok, passiamo al secondo. Che cos'è il secondo? Il secondo si chiama Wander. Penso si pronunci così, scritto Wander. E Wander stavolta è una cosa un po' diversa dal solito, mi piaceva, non ho mai portato robe del genere qui sopra, è perché si occupa di print on demand. Quindi se qualcuno di voi fa già print on demand, oppure gli piacerebbe l'idea di fare print on demand, quindi stampare, che ne so, magliette personalizzate, tazze, agende, penne, no? Gadget di vario tipo. Questo è uno strumento che copre, diciamo, il processo del print on demand dalla Zera. Vedete, ci sono qua sopra le integrazioni, quindi si integra in automatico con Etsy, con Shopify, con WooCommerce, avete le piattaforme più comuni, diciamo così, più famose per la vendita online. Anche qui ci sono un bel po' di caratteristiche, quindi poi ve le leggete con calma, altrimenti questo video dura una vita, e vi copre tutti gli aspetti. Quindi c'è anche la parte di AI che vi aiuta sulla parte contenuti. Quindi dovete fare il calendario tutorial, dovete pubblicare delle cose sui vostri social e così via. Potete creare contenuti, schedolare contenuti, e lo fate direttamente tutto da dentro Wander. Wander, in questo momento, la potete prendere a 39 invece di 108. Questi 39, ripeto, sono una volta. Quindi pagate 39, come quando si comprava i software, quando eri piccolino io, compravate il CD con il software, ed era vostro per sempre. Quindi questo 39, Wander, è vostro per sempre, non dovete pagare un abbonamento. Ah, una cosa importante, che prima non ho detto, la ripeto tutte le volte perché può essere utile, tutti i software di AppSumo hanno 60 giorni di garanzia soddisfatto rimborsato. Che significa? Significa che voi lo provate, se non vi piace, gli chiedete i soldi indietro, ok? Io su AppSumo colleziono roba, compro roba, prendo roba, perché dico, vabbè, mi potrebbe servire in futuro, no? La vedo in offerta, dica po', io mo me la piglio, perché tanto sono da 39, e so 4 soldi. Poi non so se mi servirà domani, dopo domani, o tra un anno, ma nel frattempo me la piglio e risparmio. Però se vi piace una cosa e non vi convince, a volte ogni tanto qualcuno me lo dice, Raff l'ho provata, in realtà non fa per me, non è quello che mi serviva a me, avevo capito. Diversamente, semplicemente gli chiedete i soldi indietro ad AppSumo. Altra cosa importante, sempre, diciamo, in totale trasparenza, lo dico in tutti i video, ma lo ribadisco di nuovo, perché magari è il primo che vedete mio, se comprate dai link che vi lascio qui sotto in descrizione, ovviamente una piccola percentuale finisce nelle mie tasche. Come dico spesso, non mi ci compro la mia fantastica Aston Martin, però è un modo che avete per ringraziarmi. C'è qualcuno che mi dice, Raff, non ti so fare la donazione, oppure non ti voglio fare la donazione, ma posso ringraziarmi in qualche modo. Quando vi volete comprare un software, se usate i link che vi lascio qua sotto, una piccola percentuale finisce a me, quindi vi ringrazio in anticipo. Tutti e cinque i tool, ovviamente, che vi segnalo, i link sono qua sotto in descrizione, potete cliccare da lì per prenderli. Andiamo al prossimo, anzi no, il prossimo tool, lo rimandiamo di un secondo, perché ne approfitto per dirvi di mettere mi piace a questo video. Vedete quanto so, vedete che livello di creatività che ho raggiunto, ho fatto anche un piccolo pipistrello simpatico che vi ricorda di mettere like a questo video. E siccome quando ve lo dico, il like dei video, il mi piace dei video, proprio schizzo, no, è più del doppio, a volte quasi il triplo, questa volta ve lo dico io e ve lo dice anche questo simpatico pipistrello, quindi mica volete offendere questo simpatico pipistrello. Ci diamo cinque secondi per mettere like. Cinque, quattro, tre, due, uno. Anche tu che sei seduto sul divano e mi stai guardando in tv, metti like al video. Passiamo dopo a questo siparietto simpaticissimo che ho preparato. Passiamo al prossimo. Il prossimo si chiama VidBoard e VidBoard vi fa fare i video AI, ormai li chiamano, quindi questi video generati dall'intelligenza artificiale. Quindi se avete utilizzato Synthesia, se avete utilizzato HeyGen, questa categoria di strumenti, VidBoard vi permette di fare, di scegliere degli avatar, potete pure caricare la vostra foto, potete farlo parlare in tutta una serie di lingue, tra cui è supportato anche l'italiano, prima che me lo chiedete. Tra l'altro su VidBoard ci ho fatto un tutorial sul canale YouTube, quindi diciamo qua vado un po' veloce perché se volete vi andate a vedere il tutorial sul canale YouTube dove farci vedere proprio come si utilizza VidBoard e voi scrivete il testo proprio e l'avatar, l'avatar virtuale che avete creato parla dicendo quello che avete detto. Quindi è perfetto per fare video di sales per esempio, video di spiegazioni, quindi guide, how to, domande frequenti eccetera eccetera, ma anche per le demo, per la parte di onboarding e chi più ne metta. VidBoard, infatti qua sotto vedete vi dice alternativa ottima a Synthesia può essere, è bello perché le pagine di AppSumo hanno sempre questa sezione qua che vi fa vedere che alternativa potrebbe essere, quindi questa cosa è sempre comoda a buttargli un occhio. In questo momento lo pagate 59 invece di 250, quindi pure su questo risparmiate bei soldini, perciò vi dicevo se li accumulate, no, se li mettete insieme alla fine è qualche migliaio di euro, ma non è che ve li pigliate tutti e 5, però magari se ve ne servono un paio approfittatene adesso, prima che scadano le promozioni. Vado al numero 4 e il numero 4 questa volta è un browser, anche questa è una cosa tipica che non ho mai portato qui sopra, è un periodo nel quale sta andando molto di moda testare browser diversi, vi dico la verità, diverse persone, anche proprio del mio giro di amici, di colleghi, mi dicono che provano cose diverse, come browser, perché sta nascendo browser con tantissime funzionalità, soprattutto con l'intelligenza artificiale integrata, e quindi vi segnalo Sidekick è uno di questi browser di nuova generazione, vedete quindi c'è Distraction Free, mettono tutte queste funzionalità che ci sono adesso all'interno, quindi tutta una parte di attenzione alla privacy, tutto l'accesso veloce alle app di messaggistica, eccetera, eccetera, e vi potete spulciare il sito con calma, e Sidekick in questo momento lo potete prendere a 49 invece di 4,99, pure qua è un bel risparmio, e Sidekick c'è anche la parte di intelligenza artificiale, ormai tutti questi browser di nuova generazione stanno facendo l'integrazione dell'intelligenza artificiale al loro interno, quindi se avete voglia di sperimentare un nuovo browser lo potete fare, diciamo in questo caso spendendo una cifra non clamorosa, e ricordate sempre il fatto dei 60 giorni di soddisfatto rimborsato, che è una cosa che vi può abbattere l'ultima barriera, diciamo, ah, sono insicuro, questo fa il mio caso o meno, io non posso sapere se fa il vostro caso, però fate una prova, e male che va, lo restituite. Il quinto e ultimo invece è Deposit Photos, Deposit Photos è uno dei più grandi archivi, non mi ricordo, forse 250 milioni di foto, quindi se fate contenuti, posto sui social, articoli per blog, newsletter, YouTube e così via, è un enorme catalogo, diciamo, di fotografie che potete utilizzare per i vostri contenuti. Da poco, oltre alla parte di ricerca, quindi il classico catalogo che hanno loro, che ne so, io cerco robot, e mi esce qua tutte le immagini in stile robot, io prendo quelle che mi piace, le uso come cover, per esempio, del mio video, ma da poco hanno messo anche questa parte qua, la parte di AI Image Generator, quindi che si può generare un'immagine utilizzando un'intelligenza artificiale, quindi il deposit photo è diventato competitor di i vari ideogram, midjourney, eccetera, eccetera, quindi strumenti per creare immagini con l'intelligenza artificiale. In questo momento potete prenderlo a 39 invece di 300, però attenzione, su deposit photo faccio una piccola postilla, perché deposit photo non è uno strumento d'abbonamento, ma si comprano i crediti per le fotografie, quindi in questo caso con 39 dollari non state comprando, diciamo, infinite foto per sempre, ma state comprando, vi faccio vedere preciso qua sotto, 100 fotografie, ok? Quindi 100 immagini, normalmente vi sarebbero costate 300 e pass, in questo caso vi costa 39 dollari, quindi con queste 39 dollari avete comprato 100 immagini che potete scaricare, però non scade mai, ok? Quindi queste 100 immagini le scaricate quando volete voi, una vi può servire adesso, una fra due mesi, una pure fra due anni, ok? Quindi avete comprato crediti per 100 immagini, questa è una cosa importante che volevo sottolineare. e questo, diciamo, se fate contenuti, è uno strumento stracomodo, io Deposit Photo sono un cliente secondo me da 3-4 anni, lo uso veramente da una vita e mi trovo buonissimo e adesso è comodo che hanno inserito anche la parte di, come dicevo prima, di creazione con l'intelligenza artificiale, anzi, se volete vedere come si usa Deposit Photo nella parte di creazione immagine e volete vedere un tutorial, cliccate il link che vi metto adesso a schermo, il video che compare, perché ho fatto un tutorial dettagliato su come usare questa parte di Deposit Photo.